Finisce l'ultima partita in casa del Muzzanica, batte il Como per 3 reti a 0, siamo con Giulia Nasuti. Allora Giulia, una partita iniziata bene e finita in tranquillità. Sì, 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 adesso per noi era importante vincere, così abbiamo raggiunto il quinto posto. E niente, ci tenevamo a fare una bella partita, purtroppo un po' per il caldo, il ritmo sicuramente non è stato elevatissimo, però insomma abbiamo provato a giocare e penso che la nostra partita l'abbiamo fatta. Finita l'ultima partita in casa, si può fare un bilancio della stagione, si è soddisfatta? Sì, c'è il ramarico per alcune partite che purtroppo abbiamo giocato male, sia io in prima persona, sia la squadra, non ci sono state delle belle prestazioni, quindi potevamo fare dei punti in più. Il quarto posto era un po' irraggiungibile, viste le prime quattro squadre, che giocano sicuramente molto meglio di noi, e hanno un altro passo, però insomma sì, si potevano fare un po' di punti in più. Però, insomma, la stagione si può dire discreta, invece del futuro, cosa mi sai dire, del Muzzanica, cosa pensi della tua prima esperienza, magari un po' lontanuccio da casa, e tua personale insomma? È stata un'esperienza nuova, sotto tutti i punti di vista, perché venivo da tanti anni nella stessa squadra vicino a casa, quindi un po' il fatto di viaggiare, un po' il fatto di trovarmi in una squadra nuova, sia come ragazzi, sia come società. È stato semplicissimo? No, non è stato semplicissimo, e comunque adesso appena finisce la stagione parlerò sicuramente con la società, con cui comunque non ci sono stati problemi, c'è stato un rapporto di molta correttezza, quindi sicuramente parleremo del futuro, poi si vedrà.